Quest'anno commercianti e ristoratori accoglieranno i turisti e i cittadini in quella che è una nuova via Passeri, sempre più animata, sempre più attiva, sempre più in sinergia con tutte le istituzioni locali. Tantissimi eventi in collaborazione con la Biblioteca San Giovanni, il Museo Nazionale Rossini che rimarrà aperto durante le serate con attività e laboratori, i musei oliveriani che rispetteranno un'apertura serale in occasione dei nostri mercoledì e poi tanta musica, musica di tutti i tipi, dal genere classico al genere jazz, al blues, abbiamo cercato di collezionare un palinsesto di artisti che non siano solo pesaresi ma che arrivino anche da fuori proprio per portare tantissima varietà e tantissima ricchezza all'evento. Tutti i nostri eventi saranno all'interno di un sito web che è stato costruito ormai un paio d'anni fa con la nascita dell'associazione che appunto sarà il tacquino dove annoteremo tutto il programma della nostra estate. Non ci saranno tutti i mercoledì, ce ne saranno di meno ma con un programma insomma davvero molto intenso. Chiusura pedonale, apertura alla passeggiata, restituiamo la via ai cittadini a 360 gradi.